Io ho scritto questo libro su Wattpad e ho raggiunto 6 milioni di lettori e da qui il contatto poi con l'adbitrice proprio su Wattpad mi ha mandato una mail contattandomi per la pubblicazione in cartaceo. Senti, vogliamo dire anche un po', vogliamo raccontare un po' la storia senza svelare grandi particolari perché ovviamente i nostri lettori devono essere invogliati anche a leggere i tuoi libri. Certo, è una storia d'amore, è una storia di adolescenti, i protagonisti si chiamano Arianna e Riccardo e sono due ragazzi di 15 anni.